Presentata la Torres 2017-2018 tra aspettative certezze, quella di una ripartenza con progetti in itinere. Salvatore Secchi racconta i prossimi scenari che dovranno accompagnare il nuovo sodalizio alla riconquista di palcoscenici prestigiosi. Sono molto soddisfatto della partecipazione per questo evento. Speriamo di meritarci tanta fiducia e cercheremo di fare il meglio per la Torres. E' obbligo in queste categorie che la Torres faccia la sua parte, per la sua storia e per tutto quello che rappresenta per la città di Sassari. Quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Ci sono realtà sportive a Sassari importanti, però ho notato che c'è voglia di calcio e voglia di Torres. Il brand della Torres è un brand importante che vuol dire comunicazione e vuol dire il giusto investimento dal punto di vista imprenditoriale. Diciamo che rispetto ad altre attività sportive è una giusta alternativa affinché ci sia un ritorno dal punto di vista dell'immagine. E spero che questo punto sia il primo punto di partenza per gli investimenti veri e propri all'interno della società da parte degli imprenditori sassaresi che finalmente si decidano a dare una mano concreta a questa società.